Inizia oggi la posa in opera delle mattonelle mosaico che rivestiranno il Corso San Giorgio di Teramo. Un cantiere senza fine che ha fatto disperare non poco i commercianti teramani che sono arrivati a chiedere anche mezzo milione di euro di danni al Comune per i mancati introiti di questi ultimi 18 mesi. Finalmente parte la pavimentazione del Corso San Giorgio, ma di nuovo questi paraventi? No, oggi dobbiamo fare una prova a terra, appunto per provare tutte le tipologie di mattonelle come devono essere montate chiaramente per evitare che appunto la gente possa transitarci sopra è una questione anche di sicurezza, oggi ci sono questi paraventi ma quando saranno utilizzati materialmente verranno messe a terra utilizzeremo un sistema totalmente diverso, cercheremo di creare meno disagio possibile ai commercianti appunto per permettere a loro di lavorare anche mentre stanno lavorando i tecnici. Vogliamo ricordare un cronoprogramma possibile e rispettabile? Questo si potrà fare solo dopo queste prove e vedremo le prime giornate di lavoro per poter poi programmarci i tempi. Oggi no, oggi sono solo qui per fare le prove a terra, poi domani se tutto fila dritto inizieranno e poi riusciremo a fare un cronoprogramma. Speriamo per Pasqua tutto a posto? Io mi auguro, i tempi non li so dire, non li dico, anche per Scaramanzia aspetto che il responsabile del cantiere mi riferisca. Il progetto originale presentato alla città dal sindaco Maurizio Brucchi durante la campagna elettorale del suo secondo mandato prevedeva, oltre al Corso San Giorgio, anche il rifacimento della pavimentazione di Corso De Michetti, ipotesi abbandonata ormai definitivamente dall'amministrazione comunale che non intende incappare nuovamente con le lungaggini che potrebbero derivare dal ritrovamento di reperti archeologici. E così gli amati San Pietrini del Corso Vecchio sono salvi per il momento.